Il prefetto di agregento Filippo Romano è stato trasferito a Vicenza, si era insediato il 23 maggio del 2023. Dopo un anno e mezzo di permanenza nella città de Temple è stato chiamato a rivestire lo stesso incarico nella cittadina veneta che conta il doppio degli abitanti di agregento. Al suo posto arriverà in città Salvatore Caccamo, 62 anni, originario di Palermo, che è prefetto di Vicenza dal dicembre del 2023. Il prefetto Filippo Romano si è occupato dell'emergenza e migrazione, conseguendo l'obiettivo prioritario di risolvere il sovraffollamento del centro d'accoglienza di Lampedusa. Poi ha lavorato contro l'emergenza idrica, accogliendo in prefettura riunioni civiche, tecniche e politiche agendo da pungolo per contribuire a risolvere la sete. Poi ha praticato con costanza l'opera di sensibilizzazione su diverse tematiche nelle scuole a fianco delle generazioni emergenti. E poi ha sostenuto con convinzione e determinazione Agrigento, capitale della cultura 2025. Da un lato le nuove avventure sono sempre affascinanti, in aggiunta a ciò mi hanno destinato a una provincia molto bella, molto ricca. Una sede che di solito è molto ambita fra i colleghi perché ci si sta bene. Tuttavia il cuore è il cuore, quindi lascio ad Agrigento veramente tantissimi affetti e lascio anche qualche progetto che avrei voluto poter completare. Ma sono felice di averne completato fra i più importanti. Però voglio citare il più banale perché i più importanti sono quelli per la popolazione, le cose che abbiamo fatto quest'estate, per la siccità, per i migranti. Quindi mi piace citare qualcuno un po' più leggero per non dare a questa mia risposta un tono nostalgico, come tutti i saluti hanno. E sono la decorazione artistica dell'hotspot perché vorremmo che chi arriva in Italia, a prescindere se poi dovremo gestire anche con la dovuta severità certe posizioni, però chi arriva in Italia non senta di arrivare in un posto incivile, in un posto come dire grigio, come grigie sono normalmente le pareti dei prefabbricati. E quindi in questo ringrazio la Fondazione Cultural Farm che del tutto gratuitamente ci ha messo a disposizione i propri artisti. E la seconda cosa leggera che voglio citare è il rinnovo totale del Palazzo del Governo che vedrete fra qualche giorno. Stiamo aspettando davvero gli ultimi ritocchi che diventa una galleria d'arte. Una galleria d'arte che sarà aperta in prima applicazione per un mese da Natale a metà gennaio e che poi prevederà, dovrà pensarci il mio collega ovviamente a organizzare questo servizio, dei giorni di apertura al pubblico regolari in modo da consentire alla cittadinanza di reimpossessarsi del proprio Palazzo del Governo.